A tutti e a tutti i miei triplici ufficialeschi auguri di buon giustizio d'estate in piazza del Duomo a Monza. Alcuni dei simboli che già ho presentato più volte, oltre al campanile che ne ha uno gemello nella chiesa del frati Cappuccini di Oreno, è il Krusmon, il Krusmon che troviamo a fianco dell'ingresso del portale, che è illustrante un'omega, un'alfa al contrario rispetto al classico Krusmon costantiniano. Di qua si legga la regina Teodolinda e di là a Gilulfo. Ecco, vedete i maestri campionesi, la facciata è stata sbiancata, devo dire, e appena ristrutturata sembrava quasi di stile pisano, in bianco e nero, sembrava un marmo bianco con ardese, in realtà, come si può vedere, la pietra è venata, scura, molto più scura rispetto a quella del Duomo di Milano, ma certamente leoni stilofori fanno la loro comparsa.